E' un accordo esportabile, ma è un accordo importante soprattutto perché dà una risposta al netto delle acquisizioni in un piano che va dal 2024 al 2027 di 2400 assunzioni e per noi un'azienda come ERA che è riferimento all'interno del settore è una risposta determinante a quella pertenza che hanno messo in piedi i lavoratori a cui hanno partecipato con forza e che stanno dicendo con l'accordo che abbiamo fatto in termini unanimi che l'accordo è un accordo importante e condiviso anche dai lavoratori.